Valentina Dallari Valentina Dallari continua la lotta all'anoressia. Non devo avere paura. La paura uccide la mente. Valentina Dallari E la guarigione è un percorso ha confidato la Dallari di recente al settimanale Oggi, specificando poi che il suo cammino sta procedendo per il verso giusto. Nelle ultime ore la DJ è tornata a farsi viva sui social, postando una storia su Instagram ricca di significato. Nel frattempo i suoi tanti fan, hanno anche elogiato il fidanzato Alessandro, punto Non devo avere paura. La paura uccide la mente. La paura è la piccola morte che porta con sé l'annullamento totale, si legge nella storie spubblicata dall'extronista di Uomini e Donne su Instagram. Guarderò in faccia la mia paura. Permetterò che mi calpesti, e che mi attraversi. E quando sarà passata, aprirò il mio occhio interiore, e ne scruterò il percorso. La dove andrà la paura non ci sarà più nulla. Soltanto io ci sarò. La citazione è tratta dal famoso libro Dune di Frank Herbert, acclamato romanziere statunitense. L'extronista di Uomini e Donne. Il fidanzato Alessandro raccoglie i complimenti dei fan per il suo comportamento. Qualche giorno fa Valentina ha pubblicato una foto molto affettuosa in compagnia del suo fidanzato Alessandro. I due nello scatto si baciano teneramente, dando conferma di un amore che nonostante i problemi di salute della Dallari non ha avuto soste. Ed è proprio il comportamento premuroso di Alessandro, il suo esserci è in un momento così delicato, che ha fatto sì che sotto al post molti fan di Valentina lo abbiano elogiato, applaudendolo e complimentandosi con lui per il sostegno, che sta dando alla DJ. . 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